Sarà un primo maggio di impegno e sostegno ai lavoratori, quello organizzato dalla CGL, che farà tappa come prima cosa a Fonte Cerreto alle 8.30, pace, lavoro e giustizia sociale sono i temi scelti dal sindacato, che ogni anno organizza iniziative dedicate al mondo del lavoro o del non lavoro. Quest'anno ci sarà un flash mob a Fonte Cerreto alle 8.30 alla base della Funivia, un modo per portare l'attenzione sulla difficile situazione che attraversa la montagna aquilana anche a causa della situazione della Funivia, che il 30 aprile chiuderà il pubblico esercizio per la sostituzione delle Funi, con importanti ricadute sia sui lavoratori del centro turistico del Gran Sasso che sull'intero indotto e comparto. È stato simbolicamente scelto di stare a Fonte Cerreto perché qua festeggiamo la festa del lavoro e simbolicamente questa è la festa del non lavoro, ma è un lavoro per un intero comparto, perché non è soltanto il tema dei dipendenti del centro turistico del Gran Sasso, che è un problema non di poco conto, ma l'intero comparto turistico della montagna aquilana avrà effetti importanti e sarà complicato ricevere prenotazioni non avendo a disposizione l'impianto della Funivia. E quindi noi abbiamo voluto accendere un faro sulla vicenda, sperando che si trovano le soluzioni più veloci possibili affinché non si perda anche la stagione invernale, di cui siamo molto preoccupati. Sulle tempistiche vi hanno dato qualche rassicurazione? Purtroppo noi dopo aver fatto un passaggio in commissione di capigruppo non abbiamo avuto più notizie nonostante solleciti di incontro sia al comune che all'azienda, non sappiamo come verranno trattati i lavoratori dal primo maggio, perché il primo maggio termina il pubblico esercizio, non abbiamo ancora fatto il confronto per i necessari ammortizzatori qualora ve ne fosse bisogno, non abbiamo un programma alternativo alla vicenda della Funivia e non sappiamo quindi qual è la sostenibilità di quei dipendenti del centro turistico del Gran Sasso. Grazie a tutti.